Via Vito Fornari nel quartiere di Mercatello torna ad essere invasa dai rifiuti. Non ha fortuna o meglio, non c'è rispetto per l'arteria che nonostante ospiti durante il periodo estivo anche un frequentato punto di ristoro per frutte e crepe viene utilizzata dalla parte più incivile dei cittadini come ricettacolo per liberarsi di spazzatura di ogni genere. Ecco come appare la stradina che costeggia la caserma dei carabinieri di Mercatello e dall'altra parte viene delimitata dalla linea ferroviaria attraversata dalla metropolitana. Rifiuti di ogni genere abbandonati che fanno brutta mostra sulla stradina situata nei pressi del parco del Mercatello. A proposito del parco, proprio da questa area sul fronte ai rifiuti arriva una buona notizia. Dopo giorni di incuria sono stati infatti finalmente svuotati i cestini che dovrebbero essere dei gettacarte ma l'incremento di visitatori nel parco cittadino utilizzato anche come ritrovo per picnic informali soprattutto tra i più giovani trasforma spesso i contenitori in micro cassonetti nei quali viene rilasciato un po' di tutto. Nei giorni scorsi un telespettatore aveva segnalato anche la presenza di un televisore. Per fortuna come mostrano le immagini registrate stamani l'area è stata interessata da un intervento di pulizia ed il parco è tornato al suo decoro. Lo stesso non può dirsi per via Vito Fornari per i quali ci si augura presto un intervento di pulizia ma soprattutto più attenzione e meno inciviltà dai cittadini salernitani.